Non benissimo però insomma dai, ci sono i giovani che mergono. Sì, nel tempo veramente niente di che, speravo di riuscire a notare sotto 4,20 come primo obiettivo della stagione per poi vedere a marzo dove potevo arrivare, invece parto ancora da un po' più lontano proverò a lavorare ancora questi mesi per vedere, insomma, sarà sicuramente la mia ultima stagione dove fare quattro misti e quindi ci tenevo a farli bene, però per ora faccio molta fatica, vediamo se riuscirò a fare qualcosa di meglio più avanti. Tanta fatica l'ha fatta anche Pierandrea Matteazzi, ce l'ha confessato. Sì, è stato un altro misto.